Il primo attacco della partita porta al gol da parte di Ramon Amanoilovic, 1-0 il punteggio centralmente per Armenteros che vede luce avanti a sé, può andare dentro sul 1-1, rappresenta un dato positivo perché Asciana intanto va in penetrazione. C'è Eco alla sua maniera, Armenteros completamente libera, altra palla persa, possibilità di andare in contropiede, Losio contro Prunster, il tiro e il gol di Giulia Losio, più 5, 18-12, è così che si va all'intervallo in questa gara 2 di finale Scudetto. Intanto il gol da parte di Ramon Amanoilovic, attacco, si va fino in fondo intanto e questa volta Kilber allarga il braccio e riesce a superare. Da Tarbuk, possibilità per Basolo, girella di Basolo! Al netto delle possibilità che sono ancora comunque con l'incrocio per Eco, è eccellente questo movimento di Tarbuk sulla linea dei 6 metri e vince la AC Lifestyle Erice che batte dunque il Brixton Sutirol 34-27 alla palacardella e porta la serie di finale Scudetto a gara 3.